Bene cari amici buongiorno, abbiamo qui un flacone di una nota marca di bagnoschiuma economici ecco adesso questa è vuota adesso lo andremo a modificare per creare un portacellulare in modo che si possa anche mettere vicino alla presa e beneficiare due volte di un oggetto quindi parliamo di riciclo e di riuso allora cari amici dopo un paio di minuti il portacellulare è pronto dopo averlo sagomato l'operazione da fare è quella di sezionarlo a metà fino a una certa distanza in base alla grandezza del cellulare e adesso andiamo a fare la prova ecco cari amici il portacellulare adesso è pronto lo potrete prendere in qualsiasi momento se la vostra moglie sta stirando non gli date fastidio è comodo perché magari a volte non si sa dove appoggiare il telefono allora si utilizza la presa come supporto per il cellulare bene cari amici a bombazio il coccodrillo il coccodrillo come fa non c'è non c'è grazie a tutti grazie a tutti